URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, Stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto d'inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da... Ameria Radio presenta Dentro e oltre la radio con Umberto Alunni, Maria Teresa Ferranti e Paolo Pellegrini. Buonasera a tutti, benvenuti a questo speciale di Dentro e oltre la radio, che stasera dedichiamo insieme a Umberto, che saluto. Ciao Umberto. Buonasera Paolo, buonasera a tutti i nostri amici. Dedichiamo all'evento di cui siamo stati protagonisti, sabato scorso, ovvero l'assemblea annuale dell'aereo, che andrà in onda subito dopo il nostro preambolo, per chi, essendo noi una web radio, quindi abbiamo delle varie trasmissioni che parlano di radio, per permettere a tutti i soci Aire, che patrocina questa trasmissione in particolare, di ascoltare quello che è stato detto di molto interessante sabato scorso, no Umberto? Beh sì, direi proprio di sì, soprattutto la gornice di Villa Marconi era particolarmente bella, suggestiva, noi ricordiamo che c'è stata la trasmissione della nostra web radio, ma per la prima volta noi abbiamo viaggiato, oltre che in presenza, erano tre anni che non ci si riusciva, abbiamo lavorato in combinato con una radio in onde medie, che è Radio Zainet, del gruppo Mandragola, che ringraziamo per la collaborazione, perché sono stati gentilissimi, bravissimi e particolarmente utili da questo punto di vista, Radio Zainet è un'emittente radio che copre tutto il nord d'Italia e arriva fino a Bologna, quindi stiamo parlando di una copertura molto interessante, nonché poi sulla piattaforma Zoom, quindi dal vivo, web radio, Amerio Radio, Radio Zainet del gruppo Mandragola e piattaforma Zoom, io direi che insomma i nostri amici associati di Aile hanno veramente avuto la possibilità di poter fare, di poter scegliere il canale a cui riferirsi, no Paolo? Di fare il pieno e di avere a 360 gradi, senti come siamo bravi questa sera, di avere a 360 gradi tutto il panorama radiofonico, dalla più blasonata OM, non mi far dire più antica perché non è così e lo ripeteremo fino allo spasimo, quindi dalla più blasonata OM alla più innovativa web radio, quindi è stato proprio interessante perché è stato un connubio che fa capire come tecnologie già presenti e nuove tecnologie possono collaborare per creare quel circolo virtuoso che sicuramente fa bene a tutti perché la web radio, come noi diciamo sempre, è attiva in tutto il mondo al momento che esce su internet, quindi è raggiungibile, ma c'è il limite, bisogna riconoscerlo, per le persone diciamo meno avvezze alla tecnologia internet, di avere qualche difficoltà ad essere raggiunta, cosa che non è invece le onde medie, scusate, che invece riescono a raggiungere tutti perché è un sistema che è ben rodato e si conosce molto bene come arrivare, basta conoscere la frequenza di quello che si deve ascoltare e ci si va. Comunque l'atmosfera è stata bellissima, Umberto. Beh sì, direi proprio di sì, ricordiamo che noi siamo stati in onda dalle dieci e mezzo a mezzogiorno, ovviamente la parte pubblica, perché poi la parte privata, quella dove si parla di punti dell'ordine del giorno dell'assemblea, non era di interesse pubblicarla ai 4.20, non era il caso, però insomma è veramente interessante, insomma noi abbiamo visto un gruppo di soci particolarmente entusiasti e riteniamo in qualche modo di aver contribuito un po' al successo di questa iniziativa, perché poi questo è. e quindi insomma noi siamo veramente contenti di aver innanzitutto essere stati lì presenti, di aver partecipato a questa bellissima manifestazione, che ovviamente ci rendiamo disponibili insieme a Radio Zainet e magari chissà, spiegando che si possano accodare altre radio in onde media con le quali abbiamo già preso contatti, per poter ovviamente dare il senso della nostra associazione, che viaggia tra l'innovazione e la tradizione e al centro l'interpolazione c'è da radio, questo bellissimo oggetto che riesce a fare tutto, che riesce a fare questi miracoli e mettere insieme tradizione e innovazione nel buon nome della comunicazione in senso lato. Assolutamente sì, e noi siamo andati anche a salutare il buon Guglielmo che riposa sotto Villa Marconi e l'abbiamo ringraziato per tutto questo bellissimo strumento che veramente è fondamentale per la comunicazione in tutto il mondo. Bene, allora Umberto, io direi di far partire l'assemblea e noi diamo appuntamento sempre con dentro oltre radio a mercoledì dove continueremo il nostro bellissimo discorso con il nostro amico Carlo, vero? Sì, continueremo con il nostro Carlo Pria che tra parentesi, dobbiamo ricordarlo, ma poi verrà ricordato anche la tradizione, è stato insegnito del titolo di Presidente Onorario, cosa assolutamente meritata per il valore, per l'impegno e per la profusione di tutti gli sforzi nei confronti dell'associazione. Quindi mercoledì avremo il nostro Presidente Onorario Carlo Pria che ci continuerà a parlare delle fabbriche di radio. Bene, allora Umberto, andiamo il via e noi ci sentiamo mercoledì sera. Ciao a tutti. Ciao a tutti e a mercoledì. A mercoledì. Signori e signori, buongiorno e benvenuti all'assemblea pubblica di Aire. Siamo qui con Umberto Alunni. Ciao Umberto. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno da Bologna. Siamo in questo bellissimo posto che è la villa di Guglielmo Marconi dove lo stesso è anche sepolto. Un posto bellissimo, tenuto molto bene, con bellissime radio in mostra e poi diciamo che oggi c'è stato un apporto dei soci Aire e quindi ci sono anche delle bellissime radio di cui abbiamo visto qualcosa, vero? Direvo di sì. La Fondazione Marconi, la casa di Marconi ospita la Fondazione Marconi e chiaramente c'è una mostra, un insieme di apparecchiature, di apparati veramente interessanti. Non dimentichiamo che siamo all'interno di un museo, Paolo. Quindi d'altra parte c'è tutta la suggestione del museo e la consapevolezza, che insomma non parliamo di sindrome di Stendhal perché sarebbe troppo esagerato, però diciamo qui è nata la radio e questa non è una cosa da tutti i giorni. Siamo all'interno, il piano sotto la stanza del Bago, all'interno della quale Marconi faceva gli esperimenti. E quindi insomma siamo a 15 metri da Marconi e siamo qui, davanti c'è la collina dei Celestini, è una giornata stupenda, meravigliosa e insomma abbiamo tutto. Abbiamo l'Aire, ricordiamo che l'Aire è vicina di casa, è la nostra patrocinante, l'associazione italiana dell'Edo d'Epoca che ovviamente fa assolutamente scopa con la fondazione Marconi, con la quale c'è un rapporto meraviglioso e non a caso l'assemblea pubblica e privata avviene in questo contesto. No Paolo? Assolutamente sì. Senti, per chi ci sta ascoltando e che non è ancora pratico, che non è il conoscitore profondo della storia di Marconi. Ci racconti la storia della collina dei Celestini? Senti, io non me ne ho preparato, questa è una bigliaccheria! Bigliaccheria? Ma lo sai che io lo faccio, lo sai! È una cosa enorme! Anche se, stamattina sono stato bravo che non ho detto nient'altro. È una cosa disperata, ma se vuoi posso fare qualche parola d'inglese? Dechetti, sonde, dechetti, dechetti... Perché questa cosa... No, 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 a parte le battute, ovviamente stiamo, insieme a Paolo, stiamo aspettando che inizi l'assemblea, perché qui ovviamente c'è un gran fermento, ci sono persone che sono arrivate da tutta Italia, questo credo che si possa assolutamente immaginare e ci vuole un po' di tempo tecnico per organizzare, per mettere a posto le cose. Allora, appena siamo arrivati abbiamo visto la collina dei Celestini, una prima cosa che praticamente ci è rimasta impresso e questa è evocato il famoso colpo di fucile che nel 1896-1995 ha in qualche modo decretato l'abbrivio, l'avvio della radio, quella propria. Di cosa si sta parlando? Stiamo parlando di una persona tutta particolare, particolarmente schiva, che ha 20 anni, perché Marconi è nato nel 1874 e nel 1894 all'interno della sua stanza, diciamo no, a tre metri di distanza, ha suonato un campanello e a tre, quattro metri di distanza e adesso praticamente è arrivato il segnale. Quando la mamma, chiamata la notte, la notte fonda, ha visto questo fenomeno, non si è resa conto diciamo della spettacolarità della situazione, dice beh va bene, hai spinto un bottone e hai suonato un campanello. la differenza rispetto a prima era che non c'era il filo, quindi la particolarità, l'importanza, la grandezza di questa cosa era che praticamente non c'era il filo. Quindi la mamma, chiamano no, è stata la prima spettatrice, oltre ovviamente a Guglielmo Marconi, di questa straordinaria, straordinaria invenzione che poi prenderà il nome di radio. Ricordiamo che il radio, come accezione tecnica, è un qualcosa che è nato, diciamo, tanti anni dopo, tanti anni dopo, per dire qualche decina, eh, non è che dobbiamo esagerare. Perché prima, anche a detta di Marconi, si chiamava telegrafia senza fili, quindi lui aveva in mente la possibilità di poter continuare a lavorare sulla telegrafia, ma ovviamente ha detto dei fili. Quindi questo era il suo target, il suo obiettivo. Telegrafia senza fili è il nome della radio che praticamente arriverà fino a ridosso, fino appena sotto gli anni venti. Se andiamo a vedere i vocabolari, no? Abbiamo parlato in più di un'occasione. I vocabolari praticamente nel 1905, nel 1910 non parlavano di radio, ma parlavano di telegrafia senza fili. E devo dire che a questo punto forse c'è una persona che magari ci può dare anche un suggerimento, un'idea di quello che può significare la radio. Mi pare che ci sia Fausto. Vicino a noi c'è Fausto Casi, il grande contributore, al quale chiediamo la cortesia di farci un saluto. Un saluto. Fausto, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io sono il past presidente dell'AIRE, dell'Associazione Italiana per la Radio d'Epoca, e siamo qua a iniziare un'assemblea annuale, durante la quale verranno decisi anche i comportamenti di tutto il Consiglio di Amministrazione, del quale fa parte anche il nostro Umberto Alunni, che è qui presente, che dovrà lavorare sodo, perché sennò lo sculacciamo. Voi dite quello che ci penso io. Esatto. Quindi, grazie per l'ascolto che farete, saremo forse un po' noiosi, però cercheremo di essere anche brillanti, come in qualche momento ci riesce a essere, anche se siamo di un'età piuttosto avanzata, come media statistica del socio Aire, che però non molla e che regge e che va avanti. L'emblema del socio Aire è il mio socio, Umberto. Eccolo. Ah, lui, sì. È lui. Grazie per l'ascolto di nuovo. Grazie Fausto. Grazie Fausto per il contributo. Porto a casa l'impegno di fare le cose altrimenti ci si sculaccia. E quindi, non bene così, la prossima volta non ti invito però. Mi vale rivedere il saluto, qualcuno che fa finta di non vedersi, vedi? Sì, io le ho deciso. Io magari se tu mi aspetti un attimo lo vado a chiamare perché è un abitué, capito? Posso andarci. Poi gli diamo un saluto. Con permesso Paolo. Sì, prego, prego. Intanto, mentre Umberto si avvicina al nostro prossimo ospite, descriviamo un attimo l'ambientazione. È una bellissima sala dove ci sono le testimonianze di Guillermo Marconi, un bellissimo quadro che lo ritrae davanti alla sua radio. E due belli aquiloni che immagino che poi chiederemo bene Umberto, che è l'esperto della giornata, che penso servivano per da antenna sicuramente, ma dopo chiederemo. Sono bellissimi quadroni appesi sulle travi. Eccolo qua, ecco qua. Ecco qua, guardate, noi abbiamo... Umberto? Passava di qua qualcuno per caso. Ecco, abbiamo un po'. Il Presidente passa per caso. Un benvenuto e un saluto da parte del nostro canale Presidente e del nostro ascoltatore. Vai, Andrea. Grazie a tutti, speriamo di riuscire ad accontentare tutti anche con la presenza di alcuni pezzi che non sappiamo se riusciamo a farveli vedere. Però ci proviamo perlomeno. Cerchiamo di dare continuità a questa situazione, solo che siamo un po' in affanno, perché come sempre il nostro è un ritardo scientifico. Dobbiamo proprio... è sempre, no? Quindi non siamo in ritardo, eravamo trattenuti. Normalmente. Quindi vi passo la palla, perché dopo magari lo riprendiamo. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie Presidente. Grazie. Vediamo un po' se riusciamo a recuperare un altro personaggio a noi molto caro che fa finta di non vederci, ma adesso Umberto lo sta prendendo e lo sta portando ai nostri microfoni. Vediamo, vediamo, vediamo se ci fa. Si sta alzando, ma Umberto si sta chinando. Non so qual è il motivo. Umberto si china, si genuflette, forse per pregare il nostro ospite, o forse si è perso qualcosa. Signori miei, come dobbiamo fare? Questo che si perde tutto. È una scena, ragazzi, che è proprio fantastica. Vediamo un po' se ce la facciamo. Vediamo se ce la facciamo. Ecco, sì, sì, si sta avvicinando il nostro credetissimo ospite, il nostro carissimo amico, che probabilmente Umberto si è inchinato per portarcelo al tavolo. ecco qua il nostro caro Roberto. Vai Roberto, un saluto. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questa assemblea. Un saluto particolare da tutto, da Umberto e da Paolo di Ammedia Radio. Grande staff. Super staff. Allora, di nuovo buon ascolto a tutti e a tra poco. Grazie, Umberto. Bene, allora, eccoci qua. Allora, stavamo parlando dell'atmosfera, vero Umberto? Stavo descrivendo un po' la sala, l'atmosfera che è molto bella. La sala si sta riempendo e quindi ci sono i bellissimi aerei che ha portato il Presidente, perché vi parleremo anche di Orbassano, anche oggi. e quindi c'è anche una bella marconcina. Visto come è diventato bravo. Ormai sei diventato un esperto, evidentemente sei proprio tra... Un tempo a Medianario praticamente l'aere è entrata, diciamo, mi è permeata. Mi è permeata. Sì, sì, permea, senti che parola. È un po' impressionante. E anche perché la parte, diciamo, pubblica dell'assemblea in questo contesto si farà un po' un aggiornamento di quello che è successo a Orbassano. Io credo che sia una cosa molto interessante, perché ricordiamo che questo evento che rievoca, diciamo, l'organizzazione dell'ottobre del 1915 è un evento, diciamo, a livello mondiale. Non era mai successo che ci potessi essere una rievocazione di questo tipo e quindi credo che, insomma, in qualche modo valga la pena, diciamo, poterla rappresentare anche in questo contesto, in questo ambito. Non dimenticando che qui non ci sono molte persone che hanno partecipato direttamente alla rievocazione storica, perché, oltre ad essere, diciamo, grandi esperti, grandi tecnici, ma sono anche... hanno svolto un ruolo anche dei figuranti. Assolutamente sì. E' anche il suo presidente. Si sono vestiti, il suo presidente, diciamo, si è vestito in unità, di pace da qualcuno, c'erano tutti, diciamo, le figure del tempo. Quindi, insomma, è tutto un discorso veramente molto, molto, molto bello. È stato, diciamo, realizzato alle minime particolari. Non dimentichiamo che, anche come ci ho raccontato e racconterà dalla viva voce del presidente, insomma, a quale non dobbiamo togliere insomma, nessun tipo di riflessione, ma insomma, ci sono stati una serie di problemi, una serie di aspetti da risolvere veramente originali, veramente particolari. E a questo, ovviamente, ha tolono a parto che è impreziosibile, se così vogliamo dire, l'evento, perché non è un evento così scontato. Non dimentichiamo una cosa. Noi siamo Umbri, siamo di Terni e dobbiamo sempre ricordare che dopo due mesi, dall'ottobre del 1915, al dicembre del 1915, c'è stata un'altra rivocazione. Con lo stesso aereo ci si è librato in volo, ma questa volta c'erano due personaggi che non sono stati particolarmente cari. non c'era più Solari come assistente, ma c'era Marconi. Ma chi guidava, chi guidava il cubo di André, lo guidava Alvaro Leonardi, che è ovviamente una via di Terni, al quale è intestato anche, diciamo, il nostro campo di volo. Un'altra cosa invece che è importante anche ricordare è che finalmente vediamo in faccia i soci aereo, perché dopo anni di pandemia finalmente si ritorna in presenza e ci sono anche collegati dalle altre sedi di aereo, tramite la piattaforma internet, tanti altri soci, ma qui è bello rivedere i volti dei nostri amici che noi come Ameria Radio abbiamo visto tramite il nostro computer in questi giorni, in questi mesi, anzi, quasi anni, eh? Un po'. Di domenica. che finalmente conosciamo, io almeno conosco di persona, veramente delle persone bambissime, appassionate, come tutte quelle che adesso vedremo anche noi, perché voi non le potete vedere, ascoltate il radio, collegate dalle varie sedi. È interessante vedere che praticamente ci sono anche il collegamento tramite Ameria Radio su una radio in OEM, non de medie, sul radio Zainet del gruppo Mandagola SRL che si può ascoltare sulla frequenza a 693 kHz. È una cosa importante perché? Perché la nuova tecnologia, quella della web radio, ha servizio di una tecnologia non vecchia, ma una tecnologia che è stata creata prima, ma che è molto importante e che speriamo che resti e non venga chiusa come si sta pensando. La radio, la radio fa proprio queste cose, riesce in qualche modo a mettere insieme le cose e le persone. Era un po' quello che era lo spirito di Marconi per risolvere i problemi, fare del bene all'umanità. E questo esempio, questo gemellaggio, questa vicinanza di altoparlanti, o altisonanti, come venivano chiamati all'inizio del secolo, e cioè la piattaforma Zoom alla quale ormai siamo abituati. la web radio, la quale non siamo abituati, ma insomma non scherziamo questa vita che era il nostro mondo, e ovviamente la radio diciamo o di media. Non era mai successo in vero che un'assemblea pubblica potesse essere diffusa e in qualche modo trasmessa attraverso i mondi media. Quindi un ringraziamento particolare agli amici di Radio Mandragola in particolare diciamo al nostro al loro impulsore che è Gianfranco Giudice che è un nostro diciamo caro amico un grandissimo contributore di Amede Radio lo abbiamo avuto in prasmissione e abbiamo potuto per così dire anche godere diciamo della sua della sua semperia e anche della sua professione. questo diciamo è un po' è un po' la storia di questa assemblea che si sta prefurando come un elemento diciamo di ripartenza assolutamente importante piacevole perché insomma altro lo stiamo facendo che provare diciamo a contribuire alla divulgazione di un mezzo che specie in questi momenti diciamo non sappiamo quanto sia necessario sappiamo veramente quanto è necessario mette insieme il genere mette insieme le persone le fanno scuola bene io vedo che si sta quasi definendo l'assemblea si sta riprendo al posto diciamo il presidente è pronto e quindi vediamo un attimo funziona funziona buongiorno a tutti scusate se siamo leggermente in ritardo ma la colpa è della distanza della voglia di dormire magari mezz'ora in più è capito per tutti però non è capitato abbiamo soltanto preso un caffè per la strada perché il transito da Torino a qui prevede una fermata idrica per gli anzianotti il signore quindi ho fatto pazienza comunque riusciamo a partire al meglio tanto per cominciare a rompere il ghiaccio io sono Ferrero Andrea attualmente il presidente dell'associazione aereo Italia l'associazione quindi nazionale che voleva ovviamente darvi il benvenuto ringraziarmi per la vostra presenza cerchiamo di essere numerosi ma lo siamo già rispetto a quello che prevedevamo notato che effettivamente qualcosa in più abbiamo guadagnato anche se lo spauracchio del covid qualcuno purtroppo ha desistito non tutti hanno la voglia il coraggio l'età le condizioni fisiche anche di affrontare un po' queste situazioni quindi in qualche modo comunque riusciamo ad andare avanti lo stesso vogliamo innanzitutto fare una motivazione noi dobbiamo perché il nostro volere è quello di dare anche una presenza toccante per i nostri soci premiare quelli che ci aiutano a fare le cose e in questo caso il nostro tesoriere signora Chiara Dia ci metterà a disposizione un po' di materiale da fare di salute e di prevenzione poi andiamo avanti con il resto questo è per toglierci subito uno dei problemi che va là quello di consegnare degli amici come sei messo Pino? gli espositori gli espositori quindi chi ha portato del materiale in esposizione alzi la mano perfetto allora per gli espositori abbiamo previsto di dare un attestato di presenza e un attestato di ringraziamento per quello che è l'esforzo da portare anche il materiale perché molte volte sono cose piccole ma qualche volta sono anche cose pesanti mi ricordo qualche anno fa che ho portato il primo televisore a specchi che effettivamente sembrava una cosa semplice ma 80 kg in un volume che era 20 per 20 per 40 effettivamente era un blocco di cementi quindi anche in questo caso sono degli sforzi in teoria però direi che il primo ad essere presente con dei materiali è il nostro il nostro presidente che è qui davanti nonché Pria Carlo al quale vogliamo dare un ringraziamento e io lo do a livello personale ringraziando tutto quello che ha fatto fino adesso e che io veramente approfitto dei lavori suoi per farli diventare miei sperando di fare bene figura lui stesso anche se non avrò il suo carisma ma cercherò di tenerlo in piedi lo stesso grazie non vado per ordine chiaramente nominativo ma vado per l'alzata di mano c'era Genova 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 eccolo qua ci racconti cosa hai portato ho portato grazie innanzitutto ho portato un ringe per la mentitola con la TPS telegrafia per i suoi era un oggetto che veniva utilizzato nel 1915 1915 telegrafia per i suoi inizio grazie che i nostri ragazzi una volta li chiamavano i ragazzi del 99 adesso forse qualcosa di meno lo chiamiamo i ragazzi di Orbassano il ragazzo di Orbassano ecco uno dei ragazzi di Orbassano è un ragazzo di Orbassano 4 BC611 la famosa parana degli americani sono 4 modelli diversi tra cui il primo è scatto il primo è una realtà assoluta perché il livello A ce ne sono in giro veramente veramente pochissimi l'edizione del 42 quindi un'occasione di unica grazie a tutti ecco presento ti basso il nome non me ne ricordo buongiorno mi chiamo Davide Marcelli e sono niente assoluto presso di voi un po' di fuori dagli schemi ho portato la mia collezione è basata sul design principalmente quindi ho portato una radio della Nordman del 68 siamo spettacoltura su due modelli grazie che disegnò Raymond Lewey Raymond Lewey è il più famoso designer americano quello delle strip line delle locomotive della buoncola bottiglie piuttosto che l'acchistrata della famiglia se no non è un momento che fa radio che ha di fuori degli schemi e che ha anche il futuro veramente quindi grazie grazie avanti un altro c'era Alex avanti dice spiegaci cosa ci hai portato salve a tutti ho portato una marconcone tipo 31 dei primi anni 20 e quindi il pieno marconi mi sembrava il caso visto che siamo qui siamo nella sua casa nella sua casa praticamente e e basta grazie basta comunque andate le donne a fare le condizioni bene bene ti è via la torre oh basta finito oh che peccato la prossima volta sarà di più ma anche perché la prossima volta spero di essere in più proprio noi nel senso che il covid non sia più qui a farci da lama caliente sulla testa della gente e mi ci permetta di aprirci anche al mondo veramente nel vero senso però sperando che oltre tutto la guerra non ci aggiunga del peso al peso perché già ne abbiamo che va bene propongo quindi adesso la premiazione per meriti a di nuovo a degli altri soci allora uno immediato è un socio di Roma che si chiama appunto Biagio Laureti per quanto riguarda la sua attività di didattica nel costruire apparecchiature da presentare i giorni spiegare il percorso è un percorso telefonico però non è presente perché purtroppo da Roma non sono nessuno da arrivare glielo faremo arrivare e quindi Pino faremo poi una busta e spegne e poi abbiamo di nuovo ma un'altra volta Alberto Genova dove è Genova? ma come mai? io veramente in questo caso ne vorrei due vorrei Alberto Genova e l'Erbea Alberto 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 uno e due e poi vi spiego perché perché questi signori qui fra qualche minuto ci racconteranno anche la storia del perché ci sono questi due apparecchi montati su questo tavolo sono due apparecchi storici il primo quello più piccolo è il diciamo la copia dell'aereo che ha volato su Orbassami si chiama Codron 3 ed è un biposto anche questo perché è del 1915 mentre il secondo è un Tiger Mount del 1923 che però purtroppo non avendo aerei che volano del Codron abbiamo voluto fare volare quello che va e abbiamo fatto volare un Tiger Mount dell'epoca quindi fra poco questi due signori qui oltre che aver restaurato le apparecchiature messe a bordo e a terra per ascoltare i primi segnali da un aereo sono anche stati attori perché il baffone che non finta di niente si nasconde era il raggio telegrafista a bordo dell'aereo del Tiger Mount quindi lo vedrete all'opera sperando di non dare fuoco all'aereo perché c'era anche questa probabilità giusto? una serie io so che nel racconto filmato c'è scritto mi raccomando le scintille le facciamo solo in volo quindi evidentemente poterà essere un problema avevamo un piccolo rubinetto della benzina che colava guarda che la benzina sull'aereo e sulla marconcina quindi effettivamente c'è stato un attimo di thriller però superato anche questo quindi sia il restauro delle apparecchiature che l'attività fatta a bordo e a terra le hanno seguite direttamente questi signori qui investiti perché avevamo un bello apparecchio di investiti d'epoca nel 115 quindi sono anche belli si presentano bene grazie a tutti e due abbiamo da segnalare anche un'attività di un certo signore che non ricordo bene come si chiama ma lo leggo perché è un nome strano si chiama D'amore Roberto questo è per te il ringraziamento è tutto quello che hai fatto fino adesso grazie fatti vedere poi poi ci resta anche mascher un attimo perché è stato premiato Roberto è stato premiato che è l'opria insomma probabilmente la scelta che abbiamo fatto l'individuare si contributo è stata la scelta a seccare assolutamente sì assolutamente sì dopo lo rintervisteremo dopo il prezzo certo ci faremo pagare almeno almeno una situazione che un po' non finita ma un po' difficilata ora siamo in un momento adesso flut flut un momento di partenza un momento che ci deve dare di nuovo il coraggio e la forza per continuare su questo grazie a tutti e come ci sono diretti il valare grazie riprendo rapidamente la parola per un saluto doveroso che è la dottoressa Valotti che traveno dietro la porta che si è nascosta è incognito ci permetterà di approfittare della sua presenza e farsi quest'anno tre nella sua casa grazie sì adesso è distrutto esatto allora mi fa piacere che state subito operativi perché va benissimo così ovviamente il mio piacevolissimo compito ma in cose come questo dormire nel 22 ho visto per cui rivedervi vedere rivedere molti di voi rivedere incontrare noi persone insomma riapporre qui è un bellissimo segnale noi ne aspettiamo tanti per esempio vi posso dire che le prenotazioni delle scolaresche sono riprese in maniera anche sostenibile al momento però va bene così ne aspettavamo questi segnali di avere le nostre vecchie ma meravigliose abitudini voi siete una di queste non vi offendete sul vecchio non ce liete dire però vecchi anche è così non possiamo cambiarla data e dire aprile maggio con le scolaresche e le vecchie abitudini insomma sono tante belle cose del passato per questi tre strani anni e ci hanno tolto e per cui davvero il benvenuto praticamente sentito e a proposito di cose tolte e non tanto cose ma una persona mi sembra stamattina più che doveroso ricordarla ovviamente mi riferisco a Nero Neri tra un attimo passerei la parola a nostro caso perché nessuno forse Nero Nero penso nessuno di lui conosce il rapporto di Nero con Aere ci tenevo a parte io non solo perché è stato passato il microfono ma perché per quanto ti vieni dire insomma per noi per noi Neri è la parte della fondazione di Nero Berconi è parte del museo per il rado che abbiamo e per me è stato anche non lo so non so se posso dire un nonno perché non è con noi perché in realtà per niente la relazione è giusta però insomma è stata una persona carissima che poi curiosamente ma non troppo alla fine è una settimana in cui ho fatto il tutelare di mia madre per cui non so come dire sembra come che la catastrofe di quelle settimane lì insomma non è grande ma andiamo oltre perché noi qui vogliamo ricordare in tutta la sua positività avete fatto tante cose voi con voi con noi qui abbiamo fatto cose e noi vi abbiamo potuto il bene dell'anima anche in tutti gli incontri a questa maggiore campagna e non sapete tutte le volte quante volte mi sono persa per arrivare a quella casa a cui ho deciso che devo usare il navigatore e non mi hanno la mente parlare ma io consiglio invece delle volte a voler in hotel e per cui insomma vi voglio dire io condivido l'ultimo ricordo del Museo Marconi e della Fondazione Marconi con me e neri poi uno di voi credo che condividerà i miei ricordi nel vostro cuore perché questa è il vero raccolto di uno di voi o molti di voi hanno un po' di con me e poi un po' più ufficialmente ma in realtà in sostanza passerei la parola a Pausto e dicevo l'ultimo magnifico ricordo che abbiamo non so se sapete che è la struttura in cui era era possibile parlare attraverso un collegamento per cui facciamo con Renzo Piana un collegamento noi con il nostro telefonino non mi importavano l'ipad ovviamente della struttura e gli abbiamo fatto vedere la zona delle sue radio giù e vi posso dire che ricordo parlava pochissimo lo spete benissimo parlava più con l'espressione e con le parole ricordo la soddisfazione nei suoi occhi che mi riuscì a fare un po' compensare tutta la presenza legata al covid e poi va bene ci risparmiamo quella sua familiare per questo appunto una mattina di ripartenza non vogliamo andare a tirare fuori cose spiacevoli mi permetto di dire che ti farò un ringraziamento a nome della fondazione Marconi ho messo il nome anche di Aire che permette a Ari Bologna perché si è arrivata in queste condizioni terribili e ingiuste nessuno merita questo in particolare non meritava questo nelle situazioni difficilissime che c'è stata anche troppo la morte si è arrivata sapete benissimo per arrivare a fare il funerale troveremo spero tutti quanti modo di ricordarlo io ho messo qualche riga sulla vista dell'aria ma credo che forse dovremmo tutti quanti pensare anche a qualcosa di più non so come deve dire ancora qualcosa di meglio soprattutto perché e dico davvero l'ultima cosa l'altro magnifico ricordo diciamo soprattutto perché non so vedere perché un ricordo magnifico che ho ma sto di qua una volta qualche anno fa e non era c'era due dei radiomatori in visita e non ti ricordo mi chiedo scusa per la vecchiaia mia e per quale ragione Nerio era più un po' sorpresa cioè era portato da quello di noi ma non era previsto che incontrarsi queste persone dell'aria io ricordo che più persone facciano dire ma quelle nelle di giuro che sembrava arrivata una superstar cioè ma me lo assicuro e questo a me colpì perché lo sapete io non vengo da quel mondo ma partendo a quel mondo per me fu la conferma di quello che io avevo costruito nella quadruccia sapevo che era una persona di enorme competenza di grandissima elevanza ma vedevo ripeto trattato un po' la superstar mi colpì tantissimo io credo che al di là del superstar li adoriamo tutti tantissimo aiure e pure per questo passo la parola a passo e mi piacerebbe pensare di prendere l'impegno che vuoi anche per ricordare il futuro e naturalmente l'impegno come fondazione Muson Barco ripeto è di portare avanti anche io questa collaborazione con Aero buona giornata grazie 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 a tutti per quello che hai detto ringraziamo anche di ringraziamo anche di tutti i soci che sono anche presenti assenti perché alcuni ci seguono anche per radio ci seguono anche per il mondo e così via e devo dire che sì vorrei ricordare Neri e Neri per quello che posso fare come intervento abbraccio perché abbiamo presentato insieme l'Aero nel 1990 il 13 di giugno l'abbiamo fondata a Tenezzola e con 19 ragioni eravamo tutti presenti 20 diciamo si erano stati votati venuto a mancare ma fu il numero 20 della schedina che tutti gli anni viene data la società la nostra situazione soprattutto l'Aero è sempre stato un buon entusiasta dell'Aero tant'è vero che io sono stato presidente per circa 10 anni e i secondi 10 anni da Fattinello e sono stato contento di questo hanno preso una nuova concentrazione Nero Neri è rimasto solo quindi ci sono problemi anche a questo punto di vista che non dimentichiamo che Nero Neri è una figura importantissima per l'Aire e insieme a Pausto Casi che sta parlando in questo momento è stato l'ispiratore negli anni di tra la fine degli anni 80 89 90 quando si è poi realizzata questa stupenda macchina che è l'Aire quindi in questo momento c'è un ricordo anche appassionato particolarmente emotivo di una figura che ha fatto tantissimo per la nostra associazione siamo arrivati a 500 600 anche soci nella migliore diciamo presentazione della nostra istituzione e oggi ancora siamo devo dire orgogliosi tutti quanti operano e lavorano perché cerchiamo di tenere la volta prima per il covid e sono tre anni appunto che diceva Barbara che non si faceva neanche una riunione proprio per motivi anche logistici e anche diciamo così legislativi e un po' perché poi dopo ora stiamo in un'altra condizione piuttosto diciamo così difficile molto difficile che fa sì che queste istituzioni culturali scientifiche e amatoriali possano dare un momento di tranquillità a chi opera in questo settore perché io ho sempre ritenuto un motto che il collezionista ha una marcia in più rispetto a normalità questa è la mia decisione anche perché sono collezionista spiegata tutti lo sapete io ho trasmesso ho cercato di trasmettere anche questa mia diciamo così malattia a virgolette perché non mi sento assolutamente malato però di fronte a tanti altri che vedono le mie collezioni vedono il museo dei mezzi di comunicazione con 45 collezioni di tematiche differenti una dall'altra tutte relative ai mezzi di comunicazione così come l'aere prevede nella sua nella sua veste diciamo così istituzionale che è aere e quant'altro attiene al mondo delle telecomunicazioni della comunicazione per cui siamo in pieno e la mia dice ma questo ma come cauto cioè insomma ci sono tutte le considerazioni che sono alcune positive alcune negative diciamo sono più quelle positive comunque è questo Nerio era uno di questi collezionista era uno di questi appassionato perché non era soltanto uno studioso diciamo così di quello che è il tipo di elemento circuitale o il tipo di radio che viene prodotto che veniva prodotto nel tempo storico era anche uno studioso era uno che ha insegnato a un mondo di radioamatori diciamo con la sua direzione della rivista che voglio ricordare anche questa è una rivista che era parallela a quella dell'Aire perché praticamente pensate che ogni due mesi praticamente dal 1990 da ottobre 1990 l'Aire non ha mai smesso di fare la pubblicazione abbiamo con orgoglio questo lo dico con orgoglio di fronte a tutti quando siamo anche in università quando siamo ai musei agli altri musei con cui si collabora che l'Aire è l'unica istituzione nazionale che ha creato la storia della radio scritta perché ci sono nelle nostre biblioteche montagne di materiali che sono relative a tutte le diciamo così considerazioni storiche che sono state tirate fuori da tutti i soci come l'altro quindi il socio che non è soltanto collezionista ma si è reso nel suo articolo anche membro diciamo così di una di una rivista cioè di un appunto come scrittore di un articolo che rimane nel tempo per tutti quella quella sua esperienza che viene pubblicata rimane nel tempo questo è un onore che noi abbiamo tutti quindi anche questi presenti o quelli che ci ascoltano e che praticamente vorremmo tirare avanti ancora nel tempo poi dopo se la rivista verrà fuori come si va nel tempo solo per smartphone per diciamo così internet oppure per ancora cartacea questo è un problema che dovrà risolvere il consiglio di amministrazione che da poco è stato eletto e che quindi è una delle prerogative anche di cui dovranno discutere all'interno del consiglio e però noi saremo sanno che tutti i soci sono con questo consiglio qualsiasi decisione prendano perché la decisione consigliare è una decisione assembleare per cui oggi noi che facciamo l'assemblea quando decidiamo di certe cose le decidiamo e le diamo in carico al consiglio di amministrazione e al consiglio direttivo che ci sta che ci presiede in questo momento Nerio è stato uno che ha presenziato devo dire che è stato presente in tutte le volte che c'è stato bisogno sia a livello strutturale quindi con le grandi istituzioni come la fondazione Marconi di cui la Vardo ricordava prima i rapporti che hanno che sono stati tenuti fino al suo al suo recesso diciamo così ma anche con le altre istituzioni associative per cui ci sono stati pro e contro per i punti migliori dal punto di vista anche di rapporto perché ognuno poi ha i suoi caratteri poi ci sono le occasioni anche che stabiliscono certe evidenze anche caratteriali che sono positive a volte anche negative però prendiamo questo fatto lo dico con estrema sincerità come se fossi un fratello di Nero Neri in questo senso diciamo di rapporto umano che Nero ce l'ha messa a punta quindi ringraziamolo e io direi mi permetto di dare un minuto di silenzio a questa assemblea che vi ricordo di Nero Neri se per favore ci si può alzare e diamo io Fausto vorrei aggiungere che assieme a Nero Neri ci sono altri nostri soci che vorrei cumulare assieme questo ricordo di questo minuto perché abbiamo perso la bellezza di 23 persone dal 2020 al 2021 quindi un bel numero e quindi ritengo sia il caso proprio di fare veramente un ricordo di Renzo Leni in questo caso grazie a tutti grazie tolgo ancora un minuto all'assemblea dammi un minuto ricorda il discorso di Nero Neri che c'è una colletta in corso e che in questo momento abbiamo anche la possibilità attraverso il responsabile del gruppo dell'Ari qui di Bologna di fare la raccolta per quelli che sono presenti qui se si può alzare faremo dei versamenti esatto faremo dei versamenti a Dottica quanto riguarda l'aiuto dall'Aria Nero Neri non c'è qui eccolo lì quello che raccoglie è lì in quel momento come ti chiami? Paolo benissimo sappiamo che Paolo è il referente tutti da Paolo a questa sepoltura per lo meno che sia meno che diciamo che riposi in pace io sono anche cattolico quindi lo dico con molta cerenza l'ultima cosa così dopo non trovo di cui dopo faccio la scuola avete notato perché era il pass presidente allora devo ricordare che anche Nero Neri è stato presidente l'orario della nostra istituzione con molto orgoglio devo dire che ha preso questo incarico questa nomina anzi fatta in un'assemblea proprio come questa che io stesso come presidente o come anche diciamo così diatore dell'Aire voglio presentare e fu accolta all'unanimità ovviamente come fu accolta all'unanimità la prima istituzione presidenziale onoraria che era quella del nostro grande personaggio Franco Soresini molti di voi l'hanno conosciuto io sono stato in onore il suo padre diciamo lui è stato per me il padre reputativo sulla storia della radio perché anche il mio primo libro il mondo in casa è passato dalle sue mani prima della pubblicazione e dopo stringendosi la mano insomma tutti e due si è fatto un bel lavoro qui siamo contenti e soddisfatti ancora oggi di questa nostra riuscita diciamo così bene quindi primo presidente onorario Franco Soresini l'ha fatto per tutta la vita poi morto lui abbiamo fatto proprio in un'assemblea come questa non mi ricordo se sono sette o otto anni fa ora questo francamente anche io ecco però insomma fu in tempi utili diciamo così della sostituzione diciamo della nostra della nuova figura di presidente onorario Nero Neri che accettò nel momento con molto devo dire slancio anche questa cosa perché è stato l'unico riconoscimento nella sua vita della nostra associazione che ha avuto come rispetto dei suoi confronti e devo dire che insomma noi siamo orgogliosi di avermi dato questa opportunità insomma ma no bene oggi io sono sempre il vecchio presidente diciamo così il primo presidente dell'Aire sono ancora in mandato che ho preso anche un pochino da altri personaggi che mi hanno diciamo ascoltato su questa cosa propongo quindi un'altra persona come presidente onorario dell'Aire perché è bene averlo questa presidenza onoraria perché ci rappresenta o ci rappresenterà diciamo così come può che è stato anche nel Renere negli ultimi suoi tempi ci rappresenterà sempre nel modo più giusto e più spontaneo diciamo così sulle nostre problematiche sulle nostre vittorie anche quindi pregherei Carlo Pia di venire qui al tavolo e di stringere la mano a me come pastoressa ma anche al presidente attuale per avere l'incarco di presidente onorario bravo Carlo grazie di quello che parlare devo grazie quindi Carlo devo fare un'altra citazione questa nomina deve essere assembleare per cui è un dovere diciamo si chiede all'assemblea con una alzata di mano l'approvazione di questa proposta per favore alziamo la mano chi è d'accordo posso votare certo sei sempre benvenuta come associazione anzi come fondazione bene abbassate pure ma facciamo la benvenuta facciamo la famora insomma Paolo questo abbiamo veramente azzeccato abbiamo portato fortuna al nostro Carlo Pria che è stato diciamo mercoledì scorso con noi e oggi ovviamente diciamo il titolo del presidente onorario diciamolo chiaramente chi passa per amene a radio avrà successi a non venire pensa un po' che mercoledì sera avremo il presidente onorario la prima trasmissione con noi e quindi ce lo busseremo prima della presidenza e dopo e chi ci sta in mezzo a me e visite di accompagnamenti e tutto il resto grazie a dopo la prima la prima parte l'abbiamo finita che cosa dici conferenza adesso cominciamo la conferenza parliamo di questa roba qua facciamo la fine il bilancio la cosa è triste alla fine benissimo allora io vorrei passare la parola ai nostri due personaggi che si sono dilettati su queste due cose che vedete sul tavolo cioè il volo della marconcina e l'utilizzo dell'omnibus per la rievocazione storica in costume che è stata fatta a Dorbassano a settembre dell'anno scorso quindi abbiamo realizzato un evento completo vale a dire restauro delle apparecchiature ritrovamento degli aerei per poter dimostrare che queste prove che Marconi faceva a Dorbassano di trasmissione da un aereo a Scintilla quindi trasmissioni telegraffiche funzionavano nel 1915 avevano dato dei grossi inutati non eravamo molto convinti di quello che si poteva ottenere perché perché i filicotti queste apparecchiature qui cent'anni dopo le abbiamo tirate fuori le abbiamo messe in funzione funziona quindi l'abbiamo provato siamo andati a casa di Alberto in mezzo ai prati abbiamo cominciato a sparare a scintilla a destra e a sinistra e da lì in avanti il racconto lo lascio ad Alberto e a Erbea i due Alberti venite là grazie 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 adesso Paolo sentiremo la parte anche praticamente interessante diciamo dell'incontro con la rivoluzione storica dalla viva voce delle persone che hanno messo mano piedi e anche passione a tutto questo questa bella attività no? sicuramente sì sicuramente lì sarà molto sentita dalla loro luce la preparazione di questo evento che è stato fondamentale nell'anno di Agri bene bene ascoltiamo i nostri amici e non togliamogli tempo appassionato di radio fin da le stadi 14 anni quando ho studiato il mio primo cittadino di reazione poi sono diventato un raggiovatore e poi nel 91 mi sono iscritto all'Aire e mi sono appassionato praticamente dalla storia delle radio come si pensano qui come voi tutti sapete nel 1915 Giuliano Marconi è stato arruolato nel primo reggimento dei dirigibilisti i vertici militari compresero subito l'importanza della persona e gli diedero diversi incalchi tra questi gli commissionavano praticamente un trasmettitore da montare sugli amici al fine di dirigere al meglio i tiri dalla vettiglia Marconi praticamente accettò la sfida e nel settembre del 1915 si raccò all'aeroporto di Mirafiori a sud di Torino con questa scatola di legno dentro il quale c'era un trasmettitore a scintilla insieme con lui c'era il suo collaboratore in Marchese Solana in quel giorno era disponibile solamente un aeroplano un biplano codron in Cifre teniamo presente che i codron furono degli aeroplani costruiti su licenza francese nello stabilimento della A.R. di Ordassano si costruirono mille aeroplani mille giorni il pilota non aveva ancora ricevuto il brevetto di volo era il caporale di Marco che vediamo qua e praticamente Marconi sistemò sul carreno il ricevitore non c'era neppure il telegrafista si offrì volontario Marchese Solare che salì sul biplano si mise questo trasmettitore in mezzo le gambe si portò appresso anche una batteria per farlo funzionare si alzarono in volo e fecero alcuni giri sopra la porta di Mirafiori si diressero poi in direzione del Moncenisio e poi fecero il ritorno durante tutto il tragitto Marconi ricevette i segnali che venivano trasmessi da Marchese Solare in effetti Solare non era un grande telegrafista si limitò a trasmettere una serie di S e una serie di B poi ci fu l'atterraggio che fu abbastanza tragico un po' perché quel giorno c'era forte vento e forse anche perché il pilota non aveva ancora una sufficiente esperienza il biplano piastrellò tre volte prima di togare il terreno e poi alla fine si piegò su un'altra rompendola per fortuna però nessuno si dice male ecco in quel giorno praticamente fu effettuata la prima trasmissione radio in Italia da un aeroparo a terra nei mesi successivi Marconi poi realizzò produsse diciamo questo trasmettitore in versione definitiva e date le sue piccole dimensioni questo aggeggio fu chiamato la Marconcina che esattamente come con lo scadolino che c'è lì prima del nostro biplano il 18 e 19 settembre del 2021 dopo ben 106 anni i soci dell'Aile Piemonte in collaborazione con la Corroppo di Orgassano hanno rievocato questa giornata particolare per la storia dell'Aile Buongiorno a tutti io mi chiamo qui alberto anche io sono parecchi anni che navigo all'interno del mondo della storia della radio ho potuto partecipare a questa bellissima esperienza in quanto mi è stato permesso di poter mettere mano a un apparecchio precisamente trasmettitore come potete vedere sullo schermo la nostra esperienza ha usufruito di tre pezzi fondamentali un aereo un trasmettitore e un ricevitore in alto potete vedere la fotografia del Gotron G3 originale in basso quello che è stato l'apparecchio utilizzato nella nostra rievocazione storica in quel antico vicinale io ho operato espressamente nel restauro del trasmettitore che aveva alcuni difetti dato il suo secolo di vita è stata un'esperienza bellissima perché comunque mi ha permesso di poter toccare e godere di un'apparecchiatura incredibile sono stati fatti alcuni restauri soprattutto alla parte di alta tensione qui potete vedere come funziona se riesci mi fa lo slide lo scaricatore tipo italiano ha parecchi dischi si possono inserire da 3 a 5 dischi per cambiare la voce del trasmettitore pur mantenendo la frequenza si cambia il gracchiare che si sente in cuffia per cui si potevano avere 3 trasmettitori sulla stessa frequenza e l'operatore poteva capire qual era che stesse parlando questo invece è il ricevitore abbiamo utilizzato un ricevitore della Marconi wireless del 1912 ricevitore ondibus è un classico ricevitore Marconi qui c'è l'ingresso dell'antenna questi il commutatore per la per inserire la bobina d'antenna inserga il condensatore variabile questo è il circuito primario che è collegato poi al circuito secondario tramite questo variometro e tramite il pomello esterno che lo fa muore la rilevazione è fatta o con il diodo di framing questa è una fedele di produzione di aberto oppure con il cristallo di carbonondo questo noi abbiamo utilizzato logicamente il cristallo di carbonondo perché non avevamo il diodo di framing che è funzionante questo è il potenziometro per la polarizzazione del cristallo di carbonondo e questo è il potenziometro per l'accensione del diodo di flammina ecco qui si vede l'interno del ricevitore la riparazione di questi oggetti che hanno cent'anni in alcuni casi è veramente difficile i fili non sono di rame sono ricoperti di una gomma che con il tetto è diventata secca quindi appena la si tocca si spacca il condensatore variabile in questo caso anche lui era bloccato insomma abbiamo tribolato parecchio però alla fine ci siamo riusciti ora prima di montare queste parecchiature sul nostro biplano abbiamo voluto provarle in un campo di sperimentazione in un campo di sperimentazione qui siamo a Camasco sopra Varano Sesia a un'altezza di 850 metri qui in fondo vedete Monte Rosa qui io ho una piccola baita che abbiamo usato come punto d'appoggio e avevamo a disposizione tutta una serie di pratiche con i quali non davano fastidio a nessuno e nessuno ci riscontrava questa è la planimetria per il paesino di Camasco che il ricevitore era piazzato qua una prima prova stata fatta per 100 metri di distanza e poi la seconda l'ultima a 1400 metri di distanza però abbiamo anche in questo caso simulato il movimento del biplano perché praticamente ci siamo anche alzati di circa 300 metri quindi erano sostanzialmente utilizzate le condizioni che abbiamo poi utilizzato durante il volo grazie allora come ha già detto Alberto prima di essere sicuri che tutto funzionasse abbiamo fatto queste prove abbiamo allestito un primo campo base la curiosità che potete vedere qua in basso è questo bidone blu sarebbe stato molto comodo piantare un paletto di terra ma l'aeroplano il paletto di terra non ce l'ha quindi ci siamo inventati una massa fittizia con dei tappetini isolanti ad altissima tensione che teoricamente simulava la poca massa metallica dell'aeroplano abbiamo fatto il primo allestimento con una long wire di 30 metri che equivaleva al filo che si sarebbe avuto rotolare al di sotto dell'aereo e ci siamo lanciati nelle prime trasmissioni ecco questo invece è il nostro ricevitore onus piazzato su un tavolino ai piedi di un altro long wire in questo caso di 50 metri di lunghezza abbiamo voluto esagerare cosa riuscirà ad avere un guadagno nel segnale che teniamo presente che il ricevitore onus alla fine non è un ricevitore significato sostanzialmente il ricevitore quest'anno di qualcuno qui abbiamo voluto guardare con un analizzatore di spettro la larghezza di banda che effettivamente comparando ai moderni trasmeditori ci siamo abbastanza spaventati qui siamo alla fine della giornata di prove e questa è la mascotte che tutto il giorno ci ha fatto compagnia arriviamo adesso al al biplano noi abbiamo cercato dei codronci tre ma purtroppo non siamo riusciti siamo riusciti a trovarli ma non siamo riusciti ad averli presto per due giorni per cui avevo ripiegato su questo biplano il The Eveland Tiger Monte è un biplano riposto dal destramento è stato progettato in Inghilterra nel 1930 e poi era prodotto in larga scala dal 1932 al 1915 è il biplano che praticamente era utilizzato da tutti i piloti della RAF era il primo biplano che veniva utilizzato per il futuro pilota doveva prima il primo impatto lo doveva fare su questo biplano che a detta del proprietario che è un ingegnere aerospaziale di Torino il signor Capavaro Gustavo che tra l'altro suo nonno era un pilota della prima quadra mondiale è un biplano facile da guidare male difficile da pilotare a vita problema ah no scusate vi do due parametri è un motor questo biplano ha un motore a cilindri raffreddato d'acqua 4 cilindri 3500 di cilindrata 130 cavalli 120 chilometri all'ora di velocità massima problema dell'antenna allora qui come vedete in questo disegno in questi periodi l'antenna era un filo che veniva fatto uscire dalla carlinga e veniva più o meno teso perché giù in fondo c'erano questi pesi questo era il sistema che usavano i francesi noi lo utilizzavamo lo stesso sistema avevamo questa radella che permetteva di svolgere il nostro filo una volta raggiunta la quota di oro e poi bisognava ricordarsi di svolgerlo prima di aver lato che in fondo c'era questo peso di 300 grammi che non sono più pochi qui praticamente abbiamo cercato di simulare quello che si faceva in questi periodi abbiamo fatto uscire da sopra la carlinga provato a far uscire da sopra la carlinga il nostro filo il nostro peso e poi per fortuna abbiamo utilizzato il buon senso e non ce la siamo sentita di volare con questo peso a peso sopra la carlinga per cui ecco che abbiamo allestito il pipano con un sistema che poi in questi anni era anche lui utilizzato moltissimo ecco questo è il piano di coda abbiamo realizzato nei piccoli isolatori di TBC e abbiamo tirato un filo di antenna fino all'angolo destro dell'ala superiore per poi ritornare verso il centro del nostro plano tenete presente che questo è il servatorio della benzina quindi come vedete ci siamo tenuti a una debita distanza onde evitare di avere dei problemi più grossi qui abbiamo rifilato il nostro filo di antenna in questo tubo di plastica e l'abbiamo fatto entrando nella carlinga la stessa cosa l'abbiamo fatta sul lato sinistro quindi in pratica abbiamo ottenuto un dipolo a T diciamo e poi abbiamo collegato la terra tramite una pinzetta a cocodrillo alla struttura metallica del duplano che è tutto questo pocarola qui vedete la postazione del pilota che è dietro la postazione del telegrafista questi su tutta la strumentazione di bordo anche la postazione del telegrafista ha esattamente tutti i comandi e c'è la possibilità di pilotarlo sia dalla postazione del telegrafista sia dalla postazione del pilota il pilota dietro c'è anche una motivazione di aver spiegato il tempo si dicevamo che nel tempo di quando il piano veniva utilizzato e il militare che era davanti si lasciava prendere dal panico e voleva utilizzare la cloche per fare atterrare l'aeroplano il pilota si alzava i piedi da dietro lo prendeva per il collo e lo tirava e gli dava la volta in terza se serviva anche questo è il motivo che il pilota era arretrato questa è la cintura di sicurezza perfettamente come originale è molto molto rude molto particolare però vi assicuro che una volta allacciata uno da lì non si muove più neanche di mezzo centimetro qui in mezzo poi c'è la cloche e sul fondo c'è la pedagliera che serve per coordinare per pilotare volutamente non ci siamo collegati alla batteria del pilota ma abbiamo prodotto realizzato questa batteria con questa cinghia e ce la mettevamo a tracolla questa sulla marconcina l'abbiamo affissato con un elastico al nostro tasto e sostanzialmente ecco qua il telegrafista con la cintura di sicurezza la marconcina appoggiata sulla gamba destra era l'unico posto che era rimasto libero sul piano qui abbiamo il nostro filo di antenna che entra e veniva collegato di dietro qui l'altro filo di antenna e il filo di terra non si vede mai qua purtroppo intanto che stiamo raccontando un po' l'esperienza di Bassano noi cominciamo a salutare diciamo alcuni nostri amici in particolare diciamo gli amici diciamo di Radio Mandracola Radio Zaydet perché ovviamente per ragione per motivi di palinsesto possono trasmettere fino a mezzogiorno quindi noi riteniamo che questo esperimento no Paolo sia stata una cosa interessante e speriamo che questo possa aprire la possibilità di esperienza del genere e anche del futuro assolutamente sì è uno dei nostri progetti e speriamo che questo primo diciamo inizio con l'importante appuntamento dell'assemblea valeriale dia come si dice a Terni la stura per altre diciamo altre sicuramente collaborazioni con tante altre radio che trasmettono in OEM e quindi li salutiamo e li ringraziamo di essere stati con noi e se vogliono continuare ad ascoltare l'assemblea ci spostiamo sul sito di Ameriaradio www.ameriaradio.com dove potrete seguire la diretta grazie tante a tutti bene questa è stata una grande vigliaccata perché la stura lo volevo dire io però va beh pazienza pazienza allora mi accoso a Paolo diciamo di salutare gli amici di Radio Zainet un carissimo saluto e un ringraziamento al nostro così al nostro uomo all'avana Gianfranco Giudice e come dico sempre a piacere della prossima occasione accensionale andiamo avanti con l'assemblea di Aire se praticamente qui la trasmissione radio telegrafica veniva dall'aeroplano a terra da terra all'aeroplano non c'era assolutamente nulla se no che una serie di questi teli che venivano posizionati facendoli assumere delle figure convenzionali in questo caso la B voleva dire vi riceviamo forte e chiaro e questo è quello che praticamente succedeva questi sono i nostri piloti Gustavo che parlava con il terro del Tiger e Pedro anche con il suo lavoro eccomi di nuovo io paradossalmente ho restaurato il trasmettitore Alberto il ricevitore ma il pilota mi ha pesato a occhio con un bue e ha determinato che il sorbiblano non c'entrava e non ci stava per cui ho entusiasticamente mi sono divertito veramente accettato di gestire la postazione di terra come potete vedere è stata allestita nella maniera più originale possibile con un vero campo militare il ricevitore era montato su un carretto io ho fatto le prime prove e poi mi va e dà l'antivaricere quando è stato ora di fare la vera manifestazione è arrivato Giuliano Marconi sulla sua automobile abbiamo fatto tutta la diciamo una vera propria ricostruzione ci siamo messi all'apparecchio è stato veramente emozionante perché abbiamo cominciato a sentire questi scricchioli in cuffia se vuoi tornare indietro vedete si ascoltava in cuffia poi c'era anche comunque un amplificatore che permetteva l'ascolto al pubblico presente si sono sentiti questi segnali telegrafici che scricchiolano oggi tutti siamo abituati a sentire la nota a 600 Hz in realtà lì si sente comunque la voce del trasmettitore quando era tutto pronto Guglielmo Marconi si è posizionato e ha fatto tutta la sua spiegazione al pubblico presente alla fine abbiamo fatto una bellissima foto ricordo in bianco e nero del nostro campo la battaglia di ricezione e anche quella dopo dove ci sono Guglielmo Marconi il capitano Celloni e Solari con la protagonista della nostra manifestazione una curiosità è stata quella che sono arrivati anche i carabinieri perché abbiamo fatto una serie di prove c'era un piccolo problema il sistema di antenna la radio non rendeva è stata fatta una serie di passaggi sempre più bassi e la gente che ha visto questo arreo plano girare in mezzo le case si è un po' spaventata ma spiegare ai carabinieri che c'erano dei ragazzacci che giocavano con biplani e trasmettitori ci hanno creduto subito devo dire e ci hanno ci hanno fatto gli auguri benissimo io voglio colgo l'occasione per rivoluzione all'aere perché io ho avuto praticamente un'esperienza bellissima non so se nella mia vita potrò ripeterla ancora ringrazio l'aere per l'opportunità che mi ha dato di poter salire solo di plano di fare tutte queste prove di restaurare questi apparecchi di fare il telegrafista di bruciarmi le dita e parecchie altre cose dobbiamo ringraziare anche la Rai perché non l'abbiamo detto prima ma i due apparecchi ci sono stati dati concessioni d'uso dalla Rai in direzione di Torino e ringrazio poi tutti gli altri soci della Rai di Piemonte che ci hanno collaborato in questa bellissima rievocazione questo vuole anche essere un invito a fare qualche un'altra rievocazione stiamo già pensando e lavorando sui in alcuni campi al momento è tutto qualcosa di piuttosto segreto di faremo sapere qualità grazie a tutti per la vostra attenzione un filmato che dobbiamo dire grazie al nostro socio Claudio Cilivetto che ha realizzato che è filmato ovviamente e soprattutto ha utilizzato una telecamera veramente fantastica che ha permesso di riprendere durante il volo delle immagini bellissime volevo soltanto approfittare per salutare Radio Zai che sta per chiudere il collegamento i nostri amici di Ameria Radio sono praticamente legati a tutta una serie di informazioni che vengono date appunto in diretta come Zoom che è uno dei sistemi classici che vengono utilizzati appunto per questa conferenza in diretta via internet quindi in questo caso grazie speriamo di rivederci presto di risentirci presto applausi anche il presidente ha salutato Radio Zainet perché insomma si sembrava assolutamente doveroso è stata fatta un bellissimo collegamento una bellissima esperienza ricordiamo che Radio Zainet si sente fino a Bologna e copre tutta la parte diciamo del centro chiedo scusa del nord Italia quindi insomma una bella copertura magari l'anno prossimo elaboreremo una sorta di network e per coprire tutta l'Italia giusto Paolo? certo in questo momento devo dire che Radio Zainet si è scollegata perché è mezzogiorno proprio scollegata e abbiamo il piacere di averla con noi e l'unione di nuove tecnologie con tecnologie che abbiamo detto prima esistenti e di grande utilizzazione state andando da un minuto chiamato dove si trova la riparazione di Orba Sang ecco le prove sentire l'umore della scintilla dentro la marconcina sì ovviamente come giustamente si dicevano i nostri amici bisogna fare delle prove simulare attraverso comunque insomma vicino Torino c'è la fortuna delle montagne quindi c'è la possibilità di simulare le varie altezze ma questo non basta perché bisogna simulare tante tante altre cose che chiaramente mettono in condizione di verificare la possibilità di trasmettere dall'aereo a terra e d'altra parte come così solo per ricordare quello che è stato detto dai nostri amici i problemi non erano non erano pochi si stava ragionando su una struttura vericolare particolarmente leggera che cossava un po' con il discorso di una radio la marconcina da sola pesa 16 kg quindi bisognava metterla in mezzo le gambe perché non c'era una postazione un alloggio per l'aria quindi il povero disgraziato di solari al suo tempo e chi poi in qualche modo lo ha emulato si è dovuto sacrificare insomma anche male le ginocchia forse la cosa che mi fa impressione è questa antenna lunghissima la sto vedendo per ottenerla vedo tutti i tiranti hanno fatto un lavorone devo dire in queste prove che stiamo vedendo di comunicazione e poi ci raccontava prima il presidente praticamente che c'era il problema della benzina che colava dal tubiscino vicino alla ramarconcina che faceva scintille non è stato bravo sì beh comunque infatti sempre dal principio che comunque si poteva accendere senza accendere quindi risparmiavano tranquillamente risparmiavano certo le abbiamo fatto oltre a una trasmissione audio anche quella visiva una bella bomba luminosa e anche audio beh volevo dire che insomma questi si stanno mettendo le mani su sull'apparati uno dei quali stava insomma al museo della museo di Torino che erano decenni ammantato da oblio polvere oh senti che romanticismo e quindi insomma non era una cosa non era una cosa semplice riprenderlo farlo funzionare ma soprattutto rievocare perché guarda mentre al suo tempo era possibile in qualche modo tirare giù qualche decina di metri di fino adesso non è che sia così di facile come ci è stato detto anche dal nostro amico Gio Berro appena hanno visto un aero in volo hanno avuto quasi paura stanno chiamati carabinieri considera che insomma erano state richieste tutte le organizzazioni perché insomma non è che si stanno si mettono aeree in volo senza così senza dire niente però la situazione la situazione era quella adesso si sta vedendo la vestizione del pilota che ha la martoncina sulle ginocchia come vedi tanto spazio e tanta comodità non c'era ora si sta accendendo l'aereo vediamo se si accende a mano eccolo è partito pensate che fosse a macchina se il gesto e mezzogiorno un po' di pasta sotto a mano non mi ha fatto niente ecco l'aereo sta partendo si no poi guarda ma il giornatino che era poi tutti i ricordi io ci sono stato e vedere questa questa situazione vedere diciamo quest'aereo che vola io sentire il rumore della S che insomma che insomma significava che in qualche modo il segnale arrivava poi la cosa buffa perché gli amici gli hanno detto insomma lo ribadiamo anche per i nostri spettatori anche perché ovviamente sanno perfettamente che stiamo super cazzolando certo perché non possiamo trasmettere il video ma possiamo raccontare questo non lo dobbiamo negare ma la cosa la cosa simpatica è che l'aereo non poteva ricevere l'aereo poteva trasmettere e basta perché con tutto il rumore che c'era anche se non c'erano cuffie non c'era possibilità di poter sterilizzare diciamo un segnale che ti arrivava allora che cosa faceva? per poter verificare che il segnale fosse trasmesso da terra facevano dei segnali convenzionali infatti in questo caso avevano messo diciamo un un lenzuolo anzi due lenzuoli evocando la V come per dire va bene va dalle parti due va come le quali insomma va in questo caso va 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 bene va bene c'è stato un attimo che se i carabinieri del gioco avessero visto quello che facevano forse sarebbero arrabbiati c'era un cerchio verde su una casa come se la volessero colpire eh sì comunque guarda questo video è veramente veramente bello 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 sì ecco ricordiamo i nostri amici poi magari lunedì certo lunedì sera sì lunedì sera manderemo in onda l'integrale dell'assemblea anche con documentazione allegata sul nostro sito e quindi potranno riascoltare rivivere questo momento di Orba Sano che è molto molto bello veramente è emozionante sì 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 poi c'è anche c'è la documentazione video che ricorderemo ai nostri riascoltatori che è disponibile su youtube sì poi c'è una documentazione un pdf che è presente sul sito di Aire Piemonte che è veramente una declinazione zonale di Aire Nazionale ricordo che Aire la nostra volta è suddiviso in vari ambiti un ambito diciamo più significativo tra i più attivi è quello diciamo l'Aire Piemonte e poi c'è l'assunto l'Orimirano 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 e così via e gli amici di Aire Piemonte elaborano mensilmente in maniera fasica rispetto alla uscita finanziale della scala parlante che è l'Ausorgan di Aire Nazionale elaborano diciamo una scala parlante elettronica in pdf e c'è una monografia in aire si parla espressamente diciamo dell'evento orbazzato quindi stessa monografia in qualche modo racchiude integra diciamo e parla in maniera esattiva di tutto quello che è successo per il posto situazioni e quant'altro ecco guardando diciamo un po' i vizi dopo persone credo che sia stato particolarmente apprezzato no? sicuramente sì ricordiamo che Claudio Giretto che attualmente si si nasconde sempre però a lui si deve questo bel filmato realizzato e montato chiaramente da un personaggio che sa il fatto suo perché è un ex-rai in pensione dove noi continuiamo a farlo lavorare come primo a un certo punto e non lo paghiamo assolutamente no grazie grazie signor Claudio grazie 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 per aver ascoltato questo racconto a lunedì sera a lunedì sera è il piacere della prossima occasione buona giornata domenica noi stiamo per chiudere la diretta in zoom quindi ringraziamo a tutti gli ascoltatori URI Unione Radiofonica Italiana 1RO stazione di Roma lunghezza d'onda metri 425 a tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera sono le ore 21 del 6 ottobre 1924 trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radio audizioni circolari il quartetto composto da Ameria Radio ha presentato dentro e oltre la radio con Umberto Alunni Maria Teresa Ferrante e Paolo Pellegrini